Ciao a tutti, oggi vi spiegherò come fare un diodorante fatto in casa, con semplicissimi passaggi. Vediamo subito gli ingredienti. Vi serviranno del cricorbonato di sodio, dell'amido di mais, un barattolo di vetro servico, dell'olio essenziale, in qualsiasi caso, qualsiasi profumo, e un cucchiaino. Iniziamo! Allora, prendiamo un barattolo di vetro e il cucchiaino e ci aggiungiamo il bicarbonato di sodio. Ne aggiungiamo quattro cucchiai. Allora, uno, due, tre e quattro. Dopodiché aggiungiamo due cucchiai di amido di mais. Uno e due. E iniziamo a mescolare il tutto. Questo diodorante in polvere serve per chi odia, non diciamo odia, ma diciamo chi non gli piace utilizzare il diodorante a cusso oppure a roll-on. Ah, non manca i vestiti. Mischiamo, mi raccomando, tutto per bene, i due composti. E poi, infine, ci aggiungiamo l'olio essenziale alla lavanda oppure all'acqua marina. Io l'ho preferito all'acqua marina che dà un po' di freschezza. Mischiamo il tutto. Quindi il profumo si inizia con le due farine. Sento già il profumo di acqua marina. Dopodiché lo chiudiamo e lo aggistiamo. Dopodiché lo apriamo. Sentiamo se l'olio essenziale ce n'è. Mi raccomando, non aggiungete troppo perché dopo di... dopo... ma... Sì? Ok. E il gioco è fatto. Come adoperarlo? Allora... prendete un po' di prodotto, lo mettete nelle mani e iniziate a tamponare oppure a massaggiare. Se vedete la polverina bianca non vi preoccupate perché tanto non macchia i vestiti. La durata di questo prodotto va dai 4 ai 6 mesi. Dopodiché la polverina la potete far andare via. Sentite l'odore e il profuma di freschezza. lo chiudete e lo conservate in un luogo asciutto. Invece con lo stesso procedimento chi lo vuole a spray si può aggiungere qualche cucchiaino di polvere che abbiamo fatto prima nel barattolino e qualche goccia di acqua distillata Adiziamo per bene Così non si formano i grumi e il gioco è fatto Spruzziamo 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 Spruzziamo